Quest'uomo si chiama Federico, fatto 11 anni di carcere e Marta, la ragazza che avete appena sentito, è una delle sue principali accusatrici, è stata una delle sue principali accusatrici. Che effetto le fa Federico sentire dire mi sono inventata tutto? Dunque, buonasera innanzitutto. E' un effetto che era una cosa che noi avevamo sempre detto anche vent'anni fa. Chiaramente sentirlo dire è un'ulteriore conferma a tutto ciò che noi abbiamo sempre sostenuto sia durante le fasi del processo che in tutta la vicenda da quando era nata. Cosa sente di dire questa ragazza che oggi ha capito di aver sbagliato? Allora, io penso una cosa, che questa ragazza non ha sbagliato volutamente perché purtroppo ha vissuto un allontanamento, ha vissuto un'esperienza che secondo me è stata traumatica e quindi posso soltanto dire che io la conoscevo perché era una mia vicina di casa, una bambina la quale sia all'epoca che oggi io provo un grande affetto e comunque è sempre stata una persona... Ma cosa aveva detto che avevate avuto dei rapporti, che l'avevate molestata? Aveva detto che all'epoca mio figlio, lei avrebbe avuto un rapporto sessuale con mio figlio e che lei sarebbe stata presente quando avrei accompagnato i miei figli insieme a lei dove sarebbe poi stata abusata. Vicino a lei c'è anche sua moglie, pensate che a questa donna hanno portato via un bambino in sala parto, neanche credo il tempo di poterlo abbracciare credo, cosa ricorda di... non so se si è svegliata, non l'ha trovata, l'ha cercata... Io a quel momento lì non mi ricordo nulla, mi sono svegliata che non lo vedevo più, lo chiedevo con lui che... ma dove è la bambina? E lui mi dice... non c'è, non c'è più. Perché non mi ricordo niente a quel momento, sono svegliata con anestesia che... quando sveglio non vedevo la bambina. Ma quando ha cercato... neanche la possibilità di abbracciarla? No, no, purtroppo... Neanche quello. Oggi non li avete più, sono questi vostri tre figli? Tre figli, sì. Non sapete neppure dove siano? No. Mentre suo marito ha fatto undici anni di carcere. Sì. Lei? Lei è stata... anche lei sottoposta a restrizioni? Sì. Sei mesi. Avvocato Michele, lei ha chiesto la revisione del processo.